La seconda ondata di contagi, le conseguenti misure restrittive volte a contenerne l'entità, la cresciuta incertezza, hanno tuttavia determinato, come in altri Paesi dell'area dell'euro, una nuova flessione del prodotto nel quarto trimestre, pari al 2% sul terzo e al 6,6% sui 12 mesi. L'esperienza acquisita ha permesso di limitarne gli effetti sull'economia, anche grazie a più mirate misure di contenimento e a un miglioramento della capacità di reazione del sistema sanitario. L'occupazione, dopo il deciso ma parziale recupero delle ore lavorate nei mesi estivi, risente del repentino peggioramento della congiuntura. La pandemia ha avuto dall'inizio del 2020 un impatto considerevole sui redditi e sulle disuguaglianze, e ne sono stati soprattutto colpiti lavoratori autonomi e dipendenti con contratti a tempo determinato, in particolare giovani e donne, la cui presenza è maggiormente diffusa nei settori più esposti alla crisi. Le politiche messe in atto per mitigarne gli effetti, quali l'estensione degli schemi di integrazione salariale, l'ampliamento della durata dei sussidi di disoccupazione e le misure di sostegno per autonomi e famiglie in difficoltà, sono state in complesso efficaci, attenuando i difetti del sistema di welfare dovuti soprattutto a un'eccessiva frammentazione degli strumenti. Nelle attuali circostanze, i provvedimenti di sollievo economico e finanziario in favore delle famiglie e delle imprese restano indispensabili. All'urgenza di far fronte ai problemi del presente, non possono però non accompagnarsi riflessioni sulle modalità che potrà assumere in futuro l'inevitabile e progressiva riduzione delle misure di supporto. La necessità di garantire protezione ai lavoratori e di scongiurare l'uscita dal mercato di imprese sane dovrà essere conciliata con l'esigenza di non impedire il fisiologico processo di riallocazione delle risorse verso le imprese e i settori con le migliori opportunità di crescita, indispensabile per favorire quei guadagni di efficienza fondamentali per alimentare lo sviluppo economico. Il contributo della politica di bilancio è stato fondamentale per contenere le ricadute economiche dell'emergenza sanitaria. Non è possibile, tuttavia, coltivare l'illusione che il debito pubblico possa aumentare indefinitamente. Il rapporto al prodotto ha già raggiunto livelli toccati in passato solo all'indomani del primo conflitto mondiale. Le politiche di bilancio devono porsi con chiarezza all'obiettivo di medio termine di ricondurne l'incidenza sul PIL su una traiettoria discendente. È un obiettivo alla nostra portata. I bassi tassi di interesse registrati negli ultimi anni hanno ridotto l'onere medio del debito ai minimi storici e la durata residua del debito è un riparo contro temporanei shock esterni, ma la questione cruciale resta quella della crescita. Passata l'emergenza pandemica, il raggiungimento di tassi di espansione stabili e sufficientemente elevati, in linea con quelli degli anni precedenti alla crisi finanziaria globale, consentirà di ridurre il peso del debito pubblico con una correzione dei saldi di bilancio non eccessivamente onerosa. Per il rilancio dell'economia, i piani di spesa pubblica per la transizione verde e digitale andranno accompagnati da riforme volte a migliorare l'ambiente economico in cui si svolge l'attività imprenditoriale in Italia. Gli investimenti privati, la crescita delle imprese, l'innalzamento della capacità innovativa del sistema produttivo dipendono anche, in misura importante, da un deciso miglioramento dei servizi prestati dalle pubbliche amministrazioni. Si tratta di un compito di fondamentale importanza, al quale anche per il fruttuoso utilizzo dei fondi europei non si può che destinare il massimo impegno. Date le sfavorevoli prospettive demografiche, alla crescita della produttività deve aggiungersi un aumento deciso dei tassi di attività. Da un lato sarà necessario assecondare le tendenze già in atto verso un prolungamento dell'attività lavorativa. Dall'altro andrà favorita la partecipazione al lavoro delle fasce di popolazione, in particolare quella femminile e quella dei giovani, che oggi restano, soprattutto nel mezzogiorno, ai margini di attività produttiva. Anche a questo riguardo non si può che ribadire l'importanza di colmare i ritardi oggi esistenti nei livelli di istruzione e di apprendimento. Non si tratta di un cenno casuale, un lip service. Ci siamo più volte soffermati sull'importanza cruciale della scuola e dell'investimento in conoscenza, dell'università e della ricerca. Sono oggi forse questi investimenti più importanti che mai per il nostro sviluppo. Progressi in corso, incoraggianti sul piano programmatico, anche alla luce di un buon utilizzo di investimenti previsti dai fondi europei, vanno proseguiti e consolidati. L'anno appena concluso è stato caratterizzato da movimenti molto erratici nei mercati finanziari. Nei primi mesi del 2020 il differenziale tra i rendimenti dei titoli di Stato a dieci anni italiani e quelli tedeschi ha ripetutamente superato i 250 punti base. La coerenza delle politiche economiche adottate a livello nazionale e comunitario ha favorito il riassorbimento delle tensioni e una prolungata discesa dei tassi di interesse di mercato. Sono state determinanti l'azione risoluta e tempestiva della politica monetaria, con nuovi programmi di acquisto, la cui flessibilità ha consentito di incidere con vigore nelle giurisdizioni dove maggiori sono state le tensioni finanziarie causate dal diffondersi della pandemia, e la decisione di creare il fondo Next Generation EU per finanziare congiuntamente i piani di investimento e sviluppo dei singoli Paesi con l'emissione dei titoli di debito europei. I rendimenti delle obbligazioni pubbliche italiane decennali si sono gradualmente portati su livelli estremamente bassi e il differenziale con i titoli tedeschi è sceso negli ultimi giorni al di sotto dei cento punti base, raggiungendo il valore minimo dall'inizio del 2016. L'insieme delle misure adottate a sostegno della liquidità ha inoltre consentito il mantenimento di condizioni favorevoli di accesso al credito bancario per famiglie e imprese e la riduzione del costo della provvista obbligazionaria e azionaria. A fronte di effetti dell'emergenza sanitaria che si prefigurano di durata più estesa di quanto ipotizzato in autunno, nella riunione di gennaio il Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea ha ribadito che un orientamento monetario molto accomodante e una continua presenza sul mercato restano essenziali per sostenere l'attività economica e i prezzi nell'area dell'euro, anche attraverso il rafforzamento della fiducia e la riduzione dell'incertezza. Abbiamo inoltre confermato che qualsiasi restrizione delle condizioni finanziarie, incoerente con il contenimento dell'impatto della pandemia sul perseguimento della stabilità dei prezzi, sarà contrastata in modo risoluto. Anche grazie alle misure di sostegno dell'economia adottate dal Governo, le banche italiane hanno mantenuto condizioni di offerta distese, in risposta all'aumento della domanda di fondi da parte delle imprese. Nel quarto trimestre, la crescita del credito alle società non finanziarie è rimasta robusta, ancora sospinta dall'ampio ricorso ai finanziamenti assistiti da garanzie pubbliche. Il costo medio dei nuovi prestiti resta su livelli molto contenuti. Le misure di aiuto finanziario, le indicazioni delle autorità di vigilanza per l'utilizzo della flessibilità insta nelle regole sulla classificazione dei finanziamenti, l'orientamento espansivo della politica monetaria hanno contribuito a mantenere basso il tasso di deterioramento dei prestiti. Sono proseguite le cessioni di crediti deteriorati pari nel 2020 a quasi 30 miliardi, un valore superiore a quanto inizialmente preventivato. Questo risultato è stato favorito da interventi legislativi che hanno consentito alle banche di trasformare parte delle attività per imposte anticipate in crediti d'imposta nel caso di vendita di tali attivi. Con il perdurare delle restrizioni all'attività economica necessarie per contenere il rischio di contagio, il Governo ha prorogato fino al prossimo giugno la durata delle moratorie istituite nel marzo del 2020. Questa misura, anche tenuto conto dei chiarimenti recentemente pubblicati dall'autorità bancaria europea, consentirà di tenere elevato il contributo alle esigenze di liquidità delle imprese. È tuttavia essenziale che le moratorie rimangano uno strumento per consentire il superimento di difficoltà transitorie dei debitori, non un mezzo per occultare situazioni di crisi chiare e irreversibili. Mai come in questa fase, le banche dovranno esercitare con perizia il proprio ruolo, agendo tempestivamente, al fine sia di migliorare le prospettive di recupero delle imprese in temporanea difficoltà, sia di effettuare accantonamenti adeguati a fronte di posizioni con previsioni di perdita, in linea con i nuovi principi contabili. Dall'inizio dell'anno, nuove regole europee integrano la definizione di default, cui si devono attenere a fini prudenziali gli enti creditizi e gli intermediari finanziari non bancari. Come abbiamo chiarito, e tornerò ad approfondire nell'audizione cui sono stato chiamato la prossima settimana dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sulle banche, la nuova definizione di default non comporta modifiche essenziali nelle segnalazioni alla centrale dei rischi. Essa riguarda invece il modo in cui gli intermediari finanziari devono classificare le posizioni dei loro clienti ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali. In base alle evidenze relative alle quattro banche italiane che hanno scelto di passare al nuovo regime già nel corso del 2019, la nuova disciplina pare avere un impatto moderato sulla consistenza dei crediti deteriorati. Per ridurne al minimo l'effetto, abbiamo sollecitato gli intermediari ad avviare un'adeguata campagna informativa sulle nuove regole e intensificare i contatti bilaterali con la clientela. L'obiettivo è di prevenire eventuali inadempimenti non connessi con effettive situazioni di difficoltà e di gestire efficacemente queste ultime. Gli ultimi dati disponibili segnalano che alla fine di settembre 2020 il rapporto tra i crediti deteriorati nei bilanci delle banche e il totale dei finanziamenti era sceso al netto delle rettifiche di valore al 2,7%, al 5,5% all'ordore rettifiche, come ha ricordato il Presidente Mocho. La tendenza alla riduzione è destinata a interrompersi per gli effetti della crisi in corso. Essi appaiono peraltro manifestarsi con maggior lentezza e minore intensità rispetto al passato, grazie alle migliori condizioni di partenza delle imprese, oltre che ai ricordati interventi di sostegno. L'elevata incertezza sull'evoluzione del quadro macroeconomico suggerisce di esercitare grande prudenza nella lettura di stime da più parti avanzate sul possibile incremento dei crediti deteriorati. Pursi atteso in aumento, il tasso di deterioramento dovrebbe tuttavia rimanere ben al di sotto dei picchi raggiunti durante la crisi dei debiti sovrani nell'area dell'euro. Nel medio periodo, il deterioramento dei bilanci bancari dipenderà dalla velocità con cui la nostra economia sarà in grado di uscire dall'attuale fase di difficoltà. L'accumulo di sofferenze registrato fino al 2015 fu la conseguenza di due profonde recessioni che si succedettero a breve distanza l'una dall'altra. Pesarono inoltre forti carenze nei metodi di gestione dei crediti deteriorati in uso presso gli intermediari, un fronte su cui sono stati fatti importanti passi avanti nel corso dell'ultimo quinquennio, anche grazie allo sviluppo del mercato secondario. Ciò che, pur dopo qualche lieve progresso, deve ancora decisamente migliorare è la capacità del sistema legale e giudiziario di gestire l'insolvenza delle imprese in modo veloce ed efficiente. In quest'ambito bisogna tendere a colmare il divario, tuttora macroscopico, con gli altri Paesi europei. Sarà importante verificare gli effetti concreti delle riforme che, con il nuovo codice delle crisi d'impresa, entreranno in vigore nella seconda metà di quest'anno. Le regole prudenziali e le aspettative di vigilanza basate su un approccio di calendario, il cosiddetto calendar provisioning, mirano ad assicurare che i crediti deteriorati non si accumulino nei bilanci bancari senza adeguate svalutazioni. In molti Paesi, compreso il nostro, gli elevati livelli di prestiti deteriorati sono stati, nonostante le sollecitazioni, le ispezioni mirate, gli interventi prudenziali delle autorità di vigilanza, tra le cause principali delle crisi bancarie degli ultimi anni. L'effetto di questo approccio sui bilanci delle banche può non essere irrilevante nel breve periodo, ma è incomplesso gestibile. In ogni caso, il suo impatto sui conti economici degli intermediari ha natura transitoria e sostanzialmente si annulla se si considera l'intero ciclo di recupero di un credito. Nel 2020 la patrimonializzazione delle banche ha continuato ad afforzarsi. Come ha ricordato il Presidente Mocio, il rapporto tra il capitale di migliore qualità e il totale delle attività ponderate per il rischio è cresciuto di 1,2 punti percentuali, al 15,1%. Vi ha contribuito, in misura importante, la capitalizzazione degli utili relativi all'esercizio 2019, che, in conformità con le raccomandazioni del Comitato europeo per il rischio sistemico, non sono stati distribuiti. Tali indicazioni miravano da crescere la capacità degli intermediari di assorbire le perdite e garantire un adeguato flusso di finanziamenti all'economia. Il richiamo a una estrema prudenza nelle politiche di distribuzione dei dividendi è stato ribadito lo scorso dicembre sia dalla BCE sia dalla Banca d'Italia con riferimento agli utili del 2020. Questi ultimi sono stati favoriti dall'ingente sostegno pubblico a imprese e famiglie, che ha contribuito a ridurre l'impatto della crisi anche sui bilanci degli istituti di credito. La raccomandazione, a natura transitoria, in questo momento assai particolare è necessario mantenere un sufficiente grado di capitalizzazione degli utili. La redditività delle banche ha in effetti risentito significativamente della crisi. Pur a fronte di un risultato di gestione sostanzialmente stabile, nei primi nove mesi del 2020, il rendimento annualizzato del capitale e delle riserve si è ridotto al 2,4%, un valore di circa due terzi inferiore a quello registrato nello stesso periodo del 2019. Al calo aggregato dei profitti hanno contribuito cause particolari e non ricorrenti che hanno inciso sui bilanci di alcuni grandi intermediari. Soprattutto, in previsione di un futuro deterioramento della qualità degli attivi, le banche hanno aumentato in misura rilevante le rettifiche di valore sui prestiti in bonus, per i quali è cresciuta la probabilità di insolvenza. Nei prossimi mesi gli effetti della crisi sulla qualità del credito andranno gestiti dalle banche con efficacia e determinazione, rafforzando gli strumenti disponibili per evitare sia un'accumulazione eccessiva di posizioni deteriorate, sia, in prospettiva, effetti prociclici sull'afferta di credito. La recente comunicazione della Commissione europea identifica iniziative potenzialmente utili per rafforzare il mercato secondario dei crediti deteriorati, ma è poco ambiziosa circa la possibilità di creare società di gestione degli attivi che possano beneficiare del sostegno pubblico, uno strumento la cui utilità è, come sottolineiamo da tempo, elevata soprattutto nelle fasi congiunturali più avverse. Le banche di piccola e media dimensione potrebbero risentire della crisi pandemica nella misura in cui sono più esposte nei confronti di imprese che operano nei settori maggiormente colpiti. Questa difficoltà si aggiunge a quelle strutturali connesse con le ridotte possibilità di sfruttare la presenza di economia di scala e di diversificazione, particolarmente importanti oggi con gli straordinari progressi della tecnologia, e con i limiti all'eccesso ai mercati e dei capitali che queste banche in effetti incontrano anche per la loro natura sociale. Anche alla luce di queste considerazioni, pure da noi più volte richiamate, appare utile e urgente sviluppare a livello europeo un quadro armonizzato per la gestione delle crisi bancarie, che favorisca, quando necessario, l'uscita ordinaria dal mercato di questi intermediari, quando abbiamo a che fare con crisi non reversibili. Resta fondamentale che le banche siano guidate da amministratori irreprensibili sul piano della professionalità e della correttezza. Le recenti disposizioni emanate dal Governo danno finalmente attuazione alla normativa europea in merito. Rafforzano in linea con gli standard internazionali i requisiti e i criteri di idoneità degli esponenti bancari. costituiscono un importante passo avanti sul fronte della difesa, della stabilità del sistema e degli interessi dei risparmiatori, siano essi piccoli azionisti o sottoscrittori di passività emesse dagli istituti di credito. L'azione delle autorità di vigilanza nell'assicurare una sana e prudente gestione trova infatti un complemento irrinunciabile nei comportamenti e nella competenza dei vertici delle banche. Essi per primi devono assicurare il buon funzionamento del sistema dei controlli interni, un adeguato presidio dei rischi, una visione strategica di medio e lungo termine idonea ad affrontare le sfide poste dal difficile momento congiunturale. Le nuove norme rappresentano l'occasione a partire dalle prossime assemblee societarie chiamate ad attribuire nuove cariche per rinnovare e potenziare il capitale umano dei vertici delle banche, non solo di quelle più grandi. Nel 2021 si concretizzerà il progetto di fusione tra SIA e Nexi, due operatori che svolgono un ruolo centrale nell'industria dei pagamenti nazionale. In una fase in cui l'Europa è fortemente impegnata nel disegno di una finanza digitale aperta, sicura, sostenibile, vede la luce a un polo italiano in grado di fornire un contributo significativo a livello europeo, non solo nazionale, in termini di solidità ed innovazione delle infrastrutture di pagamento. Un contesto aperto competitivo è cruciale affinché i guadagni di efficienza per gli operatori finanziari si riflettano in minori costi per gli utenti finali. All'innalzamento del contenuto tecnologico in sicurezza del sistema finanziario italiano è rivolto il contributo che la Banca d'Italia intende fornire con la recente apertura di un hub tecnologico presso la nostra sede di Milano. Nell'ambito del filone finanziario del G20, che riunisce i ministri economici e i governatori delle banche centrali, la Presidenza italiana promuoverà analisi per valutare, alla luce della crisi innescata dalla pandemia, l'adeguatezza delle riforme della regolamentazione finanziaria introdotte dopo il 2008 e le criticità anche nel campo dell'intermediazione non bancaria al fine di individuare i correttivi eventualmente necessari. La digitalizzazione della finanza è un fenomeno che va opportunamente governato, poiché offre opportunità molto grandi ma apporta con sé anche nuovi rischi, compreso quello di esclusione di coloro che sono più vulnerabili. In quest'ambito si collocano le iniziative volte a garantire la tutela dell'identità della clientela e la protezione dei suoi dati. Nei pagamenti al dettaglio, in particolare per le transazioni da remoto con carta, sono state adottate soluzioni di autenticazione dei clienti che mirano a rafforzare la sicurezza delle operazioni. La strong customer authentication, qualcosa che riguarda tutti noi e per tutti noi anche dei costi impegnativi in termini di operazione sicura. Però questo serve a dare ulteriore sostegno allo sviluppo del commercio elettronico. Se abbiamo più sicurezza possiamo utilizzare questi strumenti con maggiore fiducia. È importante che le nuove disposizioni siano correttamente e rapidamente attuate da parte degli operatori finanziari e degli esercenti che operano online. Al tema dell'inclusione finanziaria verranno inoltre indirizzati i lavori di un'apposita piattaforma del G20, che viene definita come Global Partnership for Financial Inclusion, che puntano a cogliere i divari esistenti anche attraverso un affinamento degli strumenti per la loro misurazione e identificare le soluzioni più adatte a contrastarle. Chiaramente ci sono divari molto importanti per i paesi emergenti, quelli in sviluppo, quelli più poveri, ma anche nell'ambito dei paesi avanzati per le diverse aree dei nostri paesi. Noi abbiamo chiaramente dei divari da colmare e delle distanze che chiaramente vanno chiuse molto rapidamente. La pandemia, con i suoi enormi costi economici e di vite umane, non è superata. I margini di incertezza sulla sua evoluzione rimangono elevati. L'impegno richiesto per affrontare l'emergenza sanitaria e sostenere le imprese, i lavoratori e le famiglie più colpiti, è ancora grande. La nostra economia ha dimostrato capacità di ripresa. Il Paese deve ora trovare la coesione necessaria per riprendere la via dello sviluppo, sfruttando l'opportunità offerta dalla risposta venuta dall'Unione Europea e affrontando i problemi strutturali che lo frenano nell'ambito di una strategia comune, che ha al centro le sfide della sostenibilità ambientale e della transizione digitale. Gli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, insieme con un più generale riorientamento delle politiche nazionali, devono essere volti ad accrescere il potenziale di crescita, definendo i progetti, le modalità di gestione in maniera da consentirne la pronta realizzazione, nei tempi stringenti previsti dal programma europeo e in conformità con le dettagliate indicazioni operative della Commissione europea. La sfida per le amministrazioni pubbliche non è di poco conto, come ho ricordato. L'attuazione del Piano, per quanto essenziale per la modernizzazione della struttura produttiva, rischia di non essere sufficiente a garantire un innalzamento duraturo del ritmo di crescita, se non sarà accompagnata da riforme che sciolgano i nodi che frenano lo sviluppo e l'investimento privato. Non si tratta di prestare uno secchio formale alle puntuali raccomandazioni della Commissione europea, sono raccomandazioni che dobbiamo fare noi stessi, ma di affrontare in maniera concreta problemi di cui da anni si dibatte. La combinazione della spinta al potenziale di crescita del PIL, resa possibile da un utilizzo attento e incisivo dei fondi del programma Next Generation EU, e la prolungata azione espansiva della politica monetaria, offrono all'Italia la possibilità di affrontare con vigore anche il problema dell'alto rapporto tra debito pubblico e prodotto. Grazie a una vita media residua relativamente elevata, il costo del debito resterà basso per un prolungato periodo di tempo, anche dopo che i tassi di mercato e quelli ufficiali avranno ricominciato ad aumentare. In queste condizioni, se si riuscirà a tornare, come nelle nostre possibilità, su uno stabile sentiero di crescita, e qui si dice che la crescita deve essere inclusiva, giusta, è assolutamente così, ma può esserlo, non solo deve esserlo, e però chiaramente la crescita è essenziale per poi dare lavoro, per poi soddisfare i bisogni di tutti noi. Ora, se è possibile tornare, se riusciremo a tornare su uno stabile sentiero di crescita, l'incidenza del debito sul PIL potrebbe scendere rapidamente dal picco raggiunto a causa della crisi. Una ritrovata fiducia nella qualità delle politiche e nelle prospettive dell'economia potrebbe consentire l'ulteriore riduzione del differenziale di rendimento tra i BTP italiani e i bunt tedeschi, che ancora vicino, pur dopo aver osservato la forte, fortissima riduzione degli ultimi giorni, al doppio di quelli di Spagna e Portogallo. Ora, il miglioramento della congiuntura, un'adeguata strategia di riequilibrio graduale dei conti pubblici potrebbe rafforzare tali effetti di fiducia e accelerare ulteriormente la riduzione del rapporto tra debito e prodotto. Le difficoltà del presente non devono impedirci di guardare al futuro. Vi sono certo rischi nel breve periodo, ma è possibile, coltivando una visione di più lungo termine, fare meglio di quello che suggeriscono le proiezioni tendenziali. Servono risposte consapevoli, convinte, efficaci ai gravi problemi dell'oggi, grandemente acuiti dalla pandemia, ma riflesso di preesistenti ritardi istrutturali. Per colmarli occorre l'impegno di tutti, delle imprese che operano nella nostra economia, incluse quelle dell'industria finanziaria rappresentate in questo congresso, come delle istituzioni da cui dipende l'azione di politica economica. Straordinari interventi di ristoro sono stati la risposta necessaria ad affrontare i momenti più gravi della crisi. Superata l'emergenza, le misure volte ad alleviare le difficoltà di chi è più colpito dovranno costituire un ponte verso la realizzazione di riforme e investimenti che consentono di ritrovare la via dello sviluppo da troppo tempo smarrita. Grazie.